Questa è la mia faccia dove vi stavo attirato a Napoli e Cagliari Che partita Partita non spettacolare Ma che partita strana Partita strana Partita strana Quando il Napoli stava perdendo 1-0 Volevo fare uno sfoco Non uno sfoco pesante perché ormai il campionato Il Napoli non ha più nulla da dare Però comunque mi stavo incazzando Perché il Napoli ha giocato malissimo nel primo tempo Il Napoli nel primo tempo non ha fatto un tiro in porta Un tiro nello specchio 0 E raramente è successo che il Napoli Ha fatto 0-0 nello specchio Nel secondo tempo il Napoli ha giocato ancora peggio Prendendo pure il gol del 1-0 Con Pavoletti Che cazzo Pavoletti Tu che fai? 13 gol ha fatto quest'anno All'incirca Su 10 ne fatti tesse Contro di noi Deve segnare Contro di noi Deve segnare sua azione Contro di noi Contro di noi Complimenti a Barella che ha fatto un cazzo di Asi Se è meno male Così il Napoli ha meno Ha visto lui un bel giocatore Spero che ce lo prendiamo Che Barella mi fa impazzire come giocatore Mezzala, trequartista che sia È un gran giocatore Lo voglio Però cazzo Il Cagliari ha fatto un tiro in porta Un tiro Il primo tiro in porta E se ne ho con Pavoletti Che Non ha fatto nulla Tutta la partita Ma se no il Cagliari Si è chiusa tutto in difesa Il Napoli Come al solito è lento Non dava intensità E il Cagliari Stava ben chiuso in difesa Nel secondo tempo Si è un po' Vivacizzata la partita Perché nel primo tempo È stata abbastanza noiosa Per Da entrambe le parti Nel secondo tempo Con il Con il gol di Pavoletti Non solo la partita È diventata più intensa Ma il Napoli si è risvegliato Perché il Napoli Ha preso coraggio Dopo il gol di Pavoletti Perché il Napoli Stava giocando malissimo Parliamoci chiaro Io sono onesto Quando dico questa cosa E sono sincero e onesto Il Napoli Stava giocando malissimo Poi dopo il gol di Pavoletti Il Napoli ha iniziato A giocare le coppie intensità E da quel momento Cancelotti ha fatto i cambi Perché ha tolto Verdi Che ha fatto schifo Verdi Ha fatto schifo Sincero Ha fatto qualche buona giocata Quel buon inserimento Ma Non è stato incisivo Però mi dispiace Perché comunque Già dalla sostituzione Si è visto che non era contento Io voglio dargli fiducia Perché è un giocatore Molto Molto emotivo Molto debole caratterialmente Non è adatto A questi rival coscenici Quindi bisogna Un'altra chance Ma in questa partita Non mi è piaciuto Non è stata la sua stagione Si vede Younes mi è piaciuto Mi dispiace L'ha sostituito Però Younes ha giocato bene E poi è entrato E poi è entrato anche E' entrato anche Milik Sono entrati Milik Gallegon e Fabian Ruiz Allan non mi è piaciuto proprio Mentre Fabian Ruiz Ha fatto Ha fatto una partita Da normale amministrazione Il gol del pareggio Lo riusciamo a trovare con Mertens Che ha giocato bene Ha sfruttato nel secondo tempo Nel secondo tempo Mi è piaciuto Il Napoli In attacco Mertens ha giocato bene Nel secondo tempo Si è divorato Qualche occasione Però di testa è stato pericolosa Ha fatto un bel gol di testa E poi il rigore Ne parliamo Intanto facciamo il pagellone Del Napoli Meret Non sei Non ha fatto grandi parate E il gol non è colpa sua Al viol sei Normale amministrazione Poteva fare di più sul gol Ma non ha giocato male È riuscito a contenere bene I sapovoletti Che c'erri Che c'erri è un club di molto scomodo Perché quando si ha una pippa Fisicamente È difficile spostarlo Mentre Coulibaly ha giocato bene Coulibaly 7 Molto bene Coulibaly Ma bene 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 Presso ovunque Coulibaly Le azioni partono anche da Coulibaly Non solo anche per i piedi Ma anche con la fisicità Per fare i palloni E fare il passaggio iniziale Coulibaly ci serve Isai 5 e mezzo 6 meno Un po' della efficienza Non mi è dispiaciuto In fase di Non mi è dispiaciuto Ovvero Isai e Isai 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 Goulam 7 Goulam bene Sul gol del Cagliari Ha parecchie responsabilità Perché ha perso un pallone sanguinoso Anzi non mi sembra Isai Però Goulam ha qualche responsabilità Sul gol Però in fase offensiva È stato determinante Molti cross partono da lui Sembrava un po' il Napoli di Sarri Dove le azioni offensive Partivano tutte dalla sinistra Con i piedi di Goulam Come l'anno scorso Con l'assa di Goulam Insigne Anzic Mentre A centrocampo Allan non mi è piaciuto Sembrava un pesce Forda Verdi Allan 5 Zenischi 5 e mezzo Non mi è piaciuto Troppo lento nei passaggi Poca velocità di pensiero E perdeva qualche pallone Sanguinoso di troppo Non bocciato Ma 5 e mezzo Insufficiente Rende meglio Ed esterno E si vede In quella posizione Rende meglio Fabian Che dà più fisicità E più bravo in fase L'interdizione Fagan Ruiz Do 6 politico Che ha fatto Una partita normale Per la presenza Yunes 6 Bene nel primo tempo Ma nel secondo tempo E' sparito totalmente Così come Insigne Insigne Do 6 e mezzo Tanto per il gol Ma ha giocato bene Insigne ora Si è dimostrato Un giocatore Con le palle Con la freddezza Perché ha avuto Le palle Di tirare il rigore In un momento Importantissimo Un momento critico E l'ha buttata dentro Si è riscattato Insigne Con quel gol Ha tirato fuori Quello che teneva dentro Non riusciva A cacciare In questi mesi Perché dopo L'errore con la Juventus Ha avuto le peggiori critiche Anche io ho criticato tantissimo Quando ha giocato male Però Quando Gioca In campo Va sempre supportato Il giocatore Per me dopo la partita Quando fa schifo Si merita le critiche Ma in campo Durante la partita Va sempre supportato E Insigne Ha giocato bene Si rinda a fare Quelle solite stronzate Che non dribbla Sempre Il passaggio all'indietro E il tiro a giro Però Insigne È giocato bene Soprattutto nel primo tempo Callecon Su Senza avuto Si è visto pochissimo Callecon Milik Poco Milik Non sta giocando bene Ultimamente Ma mi ha fatto impazzire Mertens Bene invece Mertens Bene bene Nel secondo tempo È stato pericolosissimo Per quattro anni Mice il Cagliari Allora Cragno Il migliore in campo Nel primo tempo Non ha fatto una parata Ma nel secondo tempo Cragno ha fatto 3-4 parati importanti Che hanno mandato A galla Fino all'84esimo Il Cagliari Ha fatto parati importantissime Della difesa Mi piacciono tantissimo Romagna Ma soprattutto Cepitelli Che in velocità È riuscito Ad anticipare Sia Mertens Che Insigne In velocità Nonostante Mertens Insigne Sono agili Scattanti Cepitelli Con la sua fisicità È riuscito Spesso A batterli in velocità Mentre Bisagano È entrato A 10 minuti Della fine Non ha fatto un cazzo Mentre Padorina Ha fatto un tiro Ma si è visto poco De Iola Ionita Buoni Tatticamente Ligo Giannis Ha fatto Buon offensivamente Ma ha sofferto Molto Callecon Zenischi E Isai Nelle loro Sovrapposizioni Invece Del centrocampo Barella Da 7 Extraordinario Barella Recupera un botto Di palloni Serve sempre Gli attaccanti In maniera egregia Poi ha fatto un assist Della madonna Che tacco Fatto il barello Che tacco Per Pavoletti Pavoletti Bene 6 e mezzo Barella 7 Pavoletti 6 e mezzo Cerri 5 e mezzo Non ha fatto Tante sponde Ma poca concretezza Mentre Gio Pedro Non ho voto Cioè Gicarini 6 Buona partita Mi è piaciuto Legnoso Quindi diciamo Il Cagliari Ha gioca Non merita Il Cagliari non merita La vittoria Ma nemmeno la sconfitta Per me era da pareggio Per me L'1-1 O lo 0-0 Ci stava Perché Cagliari Si è chiuso bene In difesa E ha sfruttato L'occasione più pericolosa Che ha avuto Ovvero il Bù di Pavoletti Mentre il Napoli Ha avuto diversi occasioni Nel secondo tempo Ma è stato anche sfortunato Lo prende sempre Il ligno Sottivo 26 In questa stagione E il Napoli Su questi aspetti Dovrà migliorare Per l'anno prossimo Perché non possiamo Continuare sempre così Ora Dovrei stare zitto Perché abbiamo vinto Però Gli errori vanno evidenziati E ce ne sono stati Veramente tanti Ora parliamo del rigore Che è sicuramente L'episodio più importante Allora L'abito Giffy Non è che mi stia Tanto Simpatico Cioè Non di persona Però Diciamo Per le scelte Che ha fatto Per i provvedimenti Che ha emanato A livello arbitrale Però Sul rigore Cioè Dovrebbe ringraziarlo Perché ci ha fatto Vincere Ok Però Non so Se era rigore Perché il cross di Goulamma Poi che l'ha presa Cacciatore È innegabile Che l'ha presa Con il braccio Con la mano È innegabile È oggettiva Sta cosa Però Non mi sembrava Tante rigore Anzi Per me Almeno per me Perché era anche impossibile Era difficile Da guardare Per me non era rigore Per me non era rigore Per me era punizione Era una semplice punizione Al limite dell'area Poi difficilmente Avremmo segnato Però L'importante è che Ci ha dato di rigore Avremmo segnato Io ho detto che Ci ha aiutato l'arbitro Non dico scandaloso L'ho fissato in chiesa Però l'arbitro ci ha aiutato Saranno cavoli suoi E io non mi infischio Non so affari miei Però dico che Ci ha aiutato Quando per me Non lo meritavamo Allora Non voglio far durare troppo Questo video Questo video Finisce qua Contenti per la vittoria Abbiamo Conquistato il secondo posto Ci sono portati A più 10 Sull'Inter Che l'Inter Se non sbaglio Stava a 63 In Napoli Mostra a 73 Quindi siamo a più 10 Sull'Inter Abbiamo ottenuto il secondo posto Matematicamente Ci vediamo Domenica Contro la Spal E niente Ciao